Sempre succede, almeno a me, mi ero dimenticata un gruppo che poi abbiamo inserito eccetera, allora direi di non fare un'introduzione, tanto semmai è più interessante fare la discussione finale, e di partire subito con le presentazioni. Senza alterare la parte del facciamo il punto che era prevista alle 3.40, direi di cominciare con un materiale presentato da un'unica persona che è il tema, vabbè due persone, no scusate ho detto male un'unica persona, un unico gruppo volevo dire, cioè un materiale sperimentato da un solo gruppo, ok? Giulia e Lucia, anche se non avete il carattere adatto, controllate i tempi. 10 minuti, ok? 10 minuti dovrebbe essere comprensivo di discussione, possiamo anche decidere di farla in fondo, vabbè, lo trovo qua nell'incontro finale, giusto? Sì, sì, l'abbiamo messo... Sì, salve, buonasera a tutti. Devo dire che noi ci siamo divertite a creare questo PowerPoint, e soprattutto ci siamo divertite nel leggere quello che i ragazzi hanno scritto sui loro temi, appunto. Quello che noi gli abbiamo proposto è stato un tema che poi noi, grazie alle insegnanti di italiano, appunto ci siamo letti, abbiamo cercato di evidenziare alcune loro espressioni, inattese, alcune volte. Il materiale, appunto, il tema, le classi a cui è stato sottoposto sono state tre, due prime classi, scuola media, una prima, sono classi, soprattutto le prime, molto numerose, la prima A di 28 alunni e con un alunno certificato di SA, due BES, uno dei due BES però in attesa di certificazione ulteriore. Nella prima C abbiamo 27 alunni, di cui tre BES, e nella seconda C 18 alunni, questa è un pochino meno numerosa, con tre BES. È stato carino anche vedere la differenza nelle risposte, perché già in un anno si vede un aspetto più critico anche sull'approccio alla matematica. Il tempo, appunto, è stato il tempo dato per il tema e poi quello che abbiamo valutato noi successivamente. Il titolo del tema è stato, per le classi C, io e la matematica, che rapporto hai con questa materia, con quale stato d'animo affronti un problema o svolgi un'espressione, quali ostacoli eventualmente incontri, e spiega come possa questa disciplina esserti utile nella vita e quali competenze ti possa trasmettere. Per la classe prima A, invece, il titolo del tema è stato breve, io e la matematica. Quindi non è stato poi dato nessun suggerimento sul come svolgere il problema, sul come svolgere il tema, ma le cose poi che sono uscite sono state le stesse. L'insegnante di italiano della C aveva invece proposto un tema più articolato e quindi anche nel titolo dare dei suggerimenti sulle cose che poi avrebbero dovuto scrivere. Abbiamo organizzato, appunto, le osservazioni nel mi piace, non mi piace la matematica e per molti il fatto di piacere e non piacere e quindi c'è l'aspetto emozionale che vivono. I no a me ha colpito, per esempio, il fatto di Matteo, nella prima A, per esempio, non mi è mai piaciuta ed ora le cose da studiare sono aumentate e sono diventate più difficili. Quindi la matematica non è mai piaciuta perché magari non mi è mai riuscita, non l'ho mai capita più di tanto, di conseguenza non mi piace. In più la differenza tra la scuola elementare e la scuola media è che nella scuola media devo studiare anche cose più difficili che io capisco ancora meno e di conseguenza non mi piace. Mi piace ancora meno di prima. Me la devo però far piacere in qualche modo perché io devo arrivare a buoni risultati e però ogni volta lo vivo con uno stato d'animo sono piuttosto agitata, infatti, soprattutto davanti a un problema io so che non mi riesce e allora mi agito tantissimo. A chi piace, invece, la matematica ed è sempre piaciuta, spesso è sempre piaciuta anche perché gli è risultata semplice. Non hanno... molti la trovano ovvia non trovano difficoltà anzi trovano divertente il fatto di avere davanti magari un'operazione particolare che devono risolvere e alcune volte anche trovare una logica, per esempio, nei problemi che però gli riesce e riesce trovare questa logica e quindi sono stimolati ancora di più. Una ragazza dice il mondo dei numeri per me io sono una sognatrice e la matematica è lontana dal mio mondo i numeri sono estranei e sono cose fredde e senza sentimento quindi per me che sono una sognatrice proprio è lontano da me quindi quando ho il compito io che li vedo lontani da me inizio ad avere forti palpitazioni. La matematica mi riesce non mi riesce e abbiamo organizzato sempre tra i sì e i no come auto-efficacia cioè mi riesce non mi riesce ma appunto per i motivi di cui anche abbiamo parlato prima un ragazzo di SA Elia nella classe prima lo trovate qua per me è sempre stata molto faticosa la matematica non dice che non gli piace la trova però molto faticosa e per lui è sempre anche se fatico nel farla però nel momento in cui mi si illumina il risultato e quindi anche il metodo io mi diverto mi piace perché appunto per me come dice Alessia è sempre stata facile però non dico che è una materia tra le mie preferite mi piace sono brava ho nove però non mi piace non è quello che voglio continuare a studiare la chiara di prima A per esempio è la materia che mi piace meno perché anche se mi impegno prende sempre un brutto voto mi deprimo mi ripeto di non essere brava e di essere una ragazzina da cinque quindi già associano la loro personalità al voto poi che ottengono è sempre molto legato al voto che 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 gli si dà anche se non capiscono che il voto non è per la persona ma è per quello che hanno realizzato alcune volte e infine è semplice o non semplice e per questo passo la parola a Daniela allora questa correlazione talvolta semplice è sinonimo di mi piace e talvolta la matematica viene anche impersonificata quindi come nel primo caso di Carlotta mi è piaciuta perché le cose erano più semplici erano elementari e e ora mi piace di meno perché le cose si fanno difficili e poi la matematica Alessio dice che ci odiamo quindi come se la matematica fosse un essere vivente e e questa mi ha fatto sorridere non me lo sarei mai aspettato perché va bene odiare la matematica ma che la matematica possa odiare una persona mi risultava insomma nuova come idea non mi insomma non mi trattengo a leggerle tutte le voci perché ci sono tante cose a dire comunque questo fatto come nell'ultimo caso in cui la matematica possa essere una nemica e che poi corrisponda all'odiarsi e ci ha fatto punto riflettere non sempre c'è questa correlazione tra semplice sinonimo di mi piace ci sono dei ragazzi che dicono che è proprio perché è troppo semplice che non mi piace che mi annoio però questo ragazzo è un ragazzo particolare che va veramente molto bene a matematica la cosa che ci ha stupito più di tutti nell'elaborare nel leggere questi temi è stato l'aspetto dell'ansia almeno noi non ci aspettavamo che fosse così rilevante l'ansia che emerge l'ansia è legata sia al riuscire e al non riuscire ma anche al confronto con gli altri il temere il confronto degli altri e quindi in tantissimi temi è emersa la tensione la paura proprio hanno usato la parola l'ansia che nasce anche dall'ambizione alcune persone si infuriano si ritengono stupide cioè no che si ritengono stupide scusatemi hanno timore che gli altri credano che loro siano stupide altre persone invece sono serene non vanno in ansia sono calme e purtroppo c'è questo orientamento che le persone che in genere vanno bene a matematica sono quelle che poi sono serene e le persone che vanno male sono quelle che sono più in ansia tranne almeno il caso di Viola che è una ragazza che va benissimo ha una madia altissima e qui è stato lo stupore maggiore leggere la sua ansia che prevale dall'ambizione perché comunque è una ragazza che va bene che non ha problemi non credevo fosse ansiosa la matematica può dare anche allegria e questo ci consola e sul discorso dell'utile tutti i ragazzi hanno la consapevolezza che la matematica sia utile e l'altra cosa che è emersa che magari ci immaginavamo ma non fino a questo punto è il ruolo centrale del docente e purtroppo spesso la matematica piace se è l'insegnante che piace almeno questo è quello che è emerso da questa piccola selezione di temi che poi sono tre classi non è numerosissima quindi insegnanti che non erano simpatiche hanno fatto sì che la matematica continuasse a non piacere o viceversa docenti di matematica hanno avuto la bacchetta magica da far sì che la matematica piaccia un po' di più anche se non è proprio sempre così ci sono ragazzi che ritengono la matematica bellissima anche se la maestra non è brava però è stato un caso su tantissimi temi la maggior parte invece collegano l'amore per l'insegnante quasi all'amore per la matematica e viceversa ovviamente se la matematica non riesce hanno timore di essere antipatici all'insegnante per qualcuno è così in questo caso io e la matematica andiamo per metà d'accordo e metà no per metà perché quando ero elementare ad insegnarmi matematica c'era una maestra che gli stavano antipatici maschi abbiamo riportato le frasi così come erano quindi siccome alla maestra stanno antipatici maschi lui è un maschio allora non mi piace la matematica la cosa bella stimolante è stato che non hanno parlato solo di matematica come far di calcolo ma è emerso che la matematica insegna anche la determinazione la dedizione a far funzionare il cervello spinge a non arrendersi addirittura a far capire che si sta crescendo insegna a far ragionare e emerge anche che insegna a far usare la logica questo è bello che non insegna soltanto matematica poi ci sono una serie di temi però non ve li leggo perché abbiamo già sforato in cui i propri ragazzi dicono ciò gli ostacoli che incontrano questi appunto li sorvolo e loro stessi sanno che tipo di aiuto potrebbero avere per migliorarsi la valutazione dell'esperienza è l'unica su cui ci riferiamo e quindi quello che emerge è che è importante l'insegnante ha un ruolo centrale e soprattutto è importante la relazione probabilmente per quanto mi riguarda cercherò di snellirla questa ansia che evidentemente emerge in classe la criticità e il tema anch'io come la professoressa Pontone avevo detto all'insegnante d'italiana avevo chiesto di fare il tema io e la matematica però l'insegnante ha emerso dei sotto argomenti che però possono essere d'aiuto oppure possono indirizzare troppo le risposte non è detto che sia una cosa positiva quindi ci aspettavamo la correlazione tra riuscire e piacere e non questa ansia così netta grazie dobbiamo riprimerci per non entrare nella discussione ora perché la paura di non controllare la situazione quindi preferisco ce la lasciamo un po' in fondo mi limito a riprendere mentre intanto si presentano quelli del del gruppo successivo facciamo il punto sì questo discorso del titolo così modificato insomma non è che sia tanto positivo quindi certamente se l'insegnante d'italiano poi che è quello che lo fa decide di farlo così non è che abbiamo tanta voce in capitolo però è molto meglio un titolo più aperto che non indirizza eccetera insomma un po' irinonicamente mi verrebbe da dire che quel titolo riflette la visione della matematica dell'insegnante d'italiano ecco va bene abbiamo già perso il secondo ah no scusate sono io va bene prego noi ci abbiamo un'artina sì dove l'ena sarebbe quello prima sì va bene lo stesso dove ci avevi messo il controfinale scusate mi trovo immediatamente facciamo il punto l'ena ok presentazione definitiva pronti facciamo la schermatera siete pronti se mi lanciate un occhio io vi dico quando mancano tre minuti perfetto ok vai allora salve a tutti dunque noi abbiamo preparato una abbiamo preparato una una scheda di facciamo il punto modificando un po' all'originale e l'abbiamo proposta una terza media una una classe di terza media alcune terze diciamo alcune classi quattro in tutto e poi abbiamo preso un po' questi risultati random dunque questa è la verifica che abbiamo dato sulle equazioni di primo grado quindi abbiamo preso un argomento che si svolge in genere nel secondo quadrimestre e abbiamo proposto questa verifica con una prima parte che riguardava appunto un aspetto teorico principi di equivalenza e poi nell'ultima parte svolgere due equazioni visto che questo viene richiesto poi all'esame di stato un'equazione a termini interi e un'altra frazione e a questo punto data la verifica abbiamo proposto poi il questionario questo dato prima della correzione della verifica a termine del compito dovevano sbarlo e a parte nel questionario come ti sembra di aver fatto la seconda parte che riguarda appunto l'indicazione esercizio per esercizio delle loro eventuali difficoltà e nell'ultima parte le abbiamo chiesto se questi esercizi li avevano ritrovati in classe se era più difficile più facile e qui abbiamo costruito un pochino il materiale la seconda parte è quella più modificata rispetto all'originale visto nel corso e qui ecco abbiamo cercato di ampliare un pochino le domande relative alle loro impressioni e cercare di tarare fuori un po' l'autocritica verso il loro studio cosa fanno cosa non gli è riuscito e questo è quello che è emerso sicuramente hanno mostrato molte difficoltà a spiegare cosa non riuscivano a fare usare il linguaggio corretto matematico usavano un linguaggio molto semplice però la cosa interessante è che emersa comunque questa volontà di mettersi in discussione e anche di autocritica verso quelli che è il loro comportamento per la maggior parte ecco poi ci sono ovviamente ragazzi bravi che gli piace studiare eccetera però magari vista l'età e altre motivazioni tendono un po' allontanarsi dal problema tra non studiare cercare di copiarlo eccetera quindi l'autocritica verso certi loro atteggiamenti è emersa per esempio prima della correzione su facciamo il punto come ti sembra di aver fatto sì in genere c'è sempre questa correlazione faccio mi sembra di aver fatto bene anche perché ho svolto il compito velocemente perché insomma le cose mi sono tornate magari perché si confrontano fra di loro e poi c'è chi ha un atteggiamento ovviamente sempre negativo ho una testa dura odio la matematica mi deconcentro facilmente quindi partire già un po' sconfitto e altri che magari ritrovano nell'esercizio quello che viene proposto un po' la continuità con con quello che si fa che si fa in classe anche qui come ti sembra di aver fatto non so perché è sempre così chi non si sa in qualche maniera valutare ho fatto tutti gli esercizi sono sicura di averli fatti bene ecco però non è non è facile per loro già a questo livello un po' tanti sono molto positivi poi in realtà andando a correggere la verifica purtroppo non è così invece altri magari hanno il dubbio e poi così male non sono andati premetto che noi abbiamo provato questo su una terza media senza che queste classi venissero mai da un lavoro del genere precedente ci siamo resi conto di come in realtà questo sia importante farlo da subito perché come è emerso poi in questa parte del questionario pochissimi sono riusciti a identificare con termini corretti quali siano effettivamente le loro difficoltà quindi anche chi come questa che ha risposto il compito non l'ha fatto male però là dove ha fatto errori non sapeva assolutamente indicare che cosa riguardassero faccio un esempio la proprietà distributiva i principi di equivalenza ecco questa terminologia non gli era poi così facile da esprimere alcuni ci hanno provato nella formulazione magari nella formulazione della domanda eccetera non ricordo bene i passaggi anche qui però ha questo linguaggio estremamente semplice diretto che ovviamente va tenuto in considerazione altri si sono limitati a esprimere le loro impressioni quindi qui per esempio non sono sicura l'insicurezza ma ecco non emerge poi quello che noi invece volevamo un po' più con esattezza qui c'è il primo e dopo qualche ragazzo effettivamente dopo la correzione della verifica gli è stato chiesto di compilare il questionario sulle impressioni avute e dalla correzione eccetera ecco ha iniziato già a emergere dove erano state presenti le sue carenze per esempio in questo caso questo ragazzo ha proprio indicato che non aveva capito la proprietà distributiva e quindi si era reso conto degli errori fatti se vuoi trovare intanto un'altra scheda l'unica cosa che posso aggiungere io è che io vorrei che questi lavori avessero poi un riscontro oggettivo e positivo sulla classe cioè si fa questo lavoro se poi si ottiene veramente un recupero no? cioè se mi serve per ottenere un risultato ora la mia esperienza mi dice che buttato là questo questionario una prima volta spiazza un po' i bimbi nel senso che non avendoli mai fatti non sanno bene cosa scrivere scrivono quello che gli viene hanno quasi paura hanno quasi paura cercano di indovinare cosa l'insegnante vorrebbe che scrivessero perché questo tipo di lavoro possa avere un risultato veramente concreto secondo me secondo noi insomma andrebbe proposto sin dalla prima magari tre o quattro volte all'anno non dico in tutte le verifiche perché tutto questo ci porterebbe un aumento del lavoro però abituandoli piano piano nella speranza che in terza arrivino e abbiano veramente la possibilità di valutare criticamente le loro mancanze le loro quarenze la mia esperienza ora mi dice che a parte qualcuno che ha capito non aveva capito la proprietà distributiva altri sono rimasti un pochino più in superficie ecco a parte l'odio per la matematica manifestato da qualcuno che ce l'ho poi rimane più comunque poi nella considerazione finale a questo punto dovresti essere in grado di valutare quali sono le tue eventuali carenze comunque è emerso un po' un'autocritica verso magari non stare abbastanza attento in classe non fare i compiti non esercitarsi sì magari spinto da qualche lamentela però ecco può essere appunto un primo passo anche per rendersi conto di quanto sia fondamentale queste materie il lavoro che si fa in classe grazie grazie un cognome perfetto ecco tutto vostro buonasera dunque il questionario noi abbiamo utilizzato e abbiamo provato come le colleghe il questionario del prima e del dopo è stato proposto una seconda media su un compitino di geometria e abbiamo Grazie a tutti. 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 No, no, era l'altra. Grazie a tutti. 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 Buonasera a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, Grazie a tutti. 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 e a tutti. e a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.